Il pianto si trova a Sant'Alberto in via Basilica 167. La continuazione è stata avviata nel 2017, sono circa due ettari. Grazie al Bambù Pro abbiamo incassato circa 6.000 euro nel 2024. Sono molto soddisfatto di essere aderito al progetto Bambù Pro. Penso che il CO2 sia una nuova entrata per gli agricoltori che hanno plantato il Bambù. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.